Compromiso a tutti ragazzi, quest'oggi mi voglio far vedere il mio campanile personale. Ora suonerò la distesa del campanile, ora mi guardo qui, vedete il campanile che parte, eccoci qua, ora parte, ora guardate, assonante senti loro. Ciao, ciao. oh ragazzi però hanno suonato le sonate manovari con le campagne però ho messo l'automatico mi vuole un quadro doloroso, sono un po' diversi ma è finto e non funziona e qua le campagne che vedete se sono a mezzo salato ma questa non ha battaglio e parte così di Don Dan e quindi se è davanti alla chiesa di Castelmartini è quella di Cesina ma roba